Ehi! Ciao Cristian! Che sorpresa! Cosa fai? Ti sto allenando per le tappe del giro di taglia in Val di Fassa? Magari! Sai che bello sarebbe arrivare a Cannazei o addirittura partire da Moena con la maglia rosa? Sai che stavo giusto pensando di rifare tutto il percorso della Marcia Longa Sideking Craft perché devo ricordarmi come sono non tanto le salite ma tanto le discese visto che è un percorso impegnativo. Che ne diresti di andare a fare il percorso alla Gran Fonda insieme? Mi piacerebbe veramente tanto! Sei pronta? Andiamo! Dai pedala invece che sciare! La Gran Fonda è lunga 135 km e bisogna saperlo bene il percorso perché è molto impegnativo. Ci sono salite durissime, allo stesso tempo anche molto pedalabili, discese tecniche ma allo stesso tempo molto veloci. E la cosa più importante è il COM. COM? Come sono? Sarebbe il Gran Premio della Montaria. Sono quei traguardi volanti situati nelle salite più impegnative. Il TOCOM però, ancora più semplice, è The King of the Mountain. The King of the Mountain. Ma se invece fosse una donna a vincere le salite? The Queen of the Mountain. Mi suona bene? Chiara, The Queen of the Mountain. Ascolta, per rimanere nel gelgo, fly down, eserciere. Se vuoi potremmo fare una sfida. Che tipo di sfida? Allora, visto che ci sono quattro salite impegnative, quattro Gran Premio della Montagna, chi ne vince di più decreterà il re o la regina della montagna. Dai, ci sto! Partiamo! Così alla fine vedremo chi sarà il vincitore, o meglio, la vincitrice. Ascolta, staremo a vedere. Io intanto vado. Ascolta, staremo a vedere.